Intesa San Paolo Casa entra nel settore delle nuove costruzioni e della cantieristica residenziale. Un'evoluzione per la società di mediazione e intermediazione immobiliare del gruppo bancario che è stata presentata a Milano dall'amministratore delegato e direttore generale di Intesa San Paolo Casa, Anna Carbonelli, che ha sottolineato in particolare il contesto di evoluzione tecnologica che ha impatto diretto sulla vita delle persone e sull'idea stessa di abitare. Lo scopo di oggi è di fare un po' di chiarezza su tutti questi nuovi driver. Cercare di capire quelli che passeranno e quelli che invece sono destinati a restare. Secondo me sono destinati a restare quelli che semplificano la vita. Oggi c'è tanta complessità, per cui lo sharing per esempio lo vedo come un trend che si afferma non soltanto nella casa, nel condominio o nella città. E dove c'è sharing c'è l'uso dell'IoT, quando c'è l'uso dell'IoT significa che è smart, smart home, smart building, smart cities, lo smart viene coniugato col cool, diventa attrattivo. E cosa possiamo fare noi? Quindi un po' di aiuto, di chiarezza e soprattutto individuare alla fine quelle aree che sono più indicate per sviluppare nuova domanda abitiativa, perché sono di per sé attrattive. La tecnologia, sotto forma per esempio di algoritmi di intelligenza artificiale o analisi dei big data, è al cuore degli strumenti innovativi che Intesa San Paolo ha pensato per il segmento dei costruttori. Un aspetto sottolineato anche da Stefano Barrese, responsabile della Banca dei Territori, che ha partecipato alla presentazione milanese. Su Intesa San Paolo Casa abbiamo investito tantissimo e devo dire appunto sulla parte di digitalizzazione e utilizzo dei dati è stato fatto un lavoro molto importante. Anche perché, nell'ottica del gruppo bancario, il settore delle costruzioni assume un ruolo di primo piano nel più vasto processo di ripresa economica. È uno dei settori trainanti non soltanto dell'economia ma anche dal punto di vista del credito. Sicuramente ha accumulato problemi negli anni, in una fase di ripresa degli investimenti. Poi anche qui ci sono aree dove probabilmente potranno accelerare. Di sicuro Milano nei prossimi anni, ma come sarà nel nord-est, potrà essere un'area importante di investimento se pensiamo a quello che potrà portare, per esempio, l'Olimpiade. In generale, con le attività di Intesa San Paolo Casa, focalizzate a questo punto anche sul mondo dei cantieri, quindi non soltanto sull'interminazione immobiliare retail, in realtà può produrre anche effetti benefici. La presentazione a Milano è stata la prima tappa di un roadshow che poi toccherà il resto dell'Italia.